Coach Nino Furfari, dopo una bella maestria vending Catanzaro, quella contro Fabiano, questa sera la brutta copia, bruttissima copia di quella che settimana scorsa ha messo paura alla seconda della classe? Sì è vero, oggi è una bruttissima partita, non ce l'aspettavamo nemmeno noi, dobbiamo assorbire pure questa e questa sarà una squadra che noi andremo ad approntare nei play-out quindi dobbiamo sapere contro chi giochiamo e la forza che loro hanno. Non è la prima volta che la maestria vending Catanzaro affronta una big e lo fa con dignità, con grande vispugnandi in campo, poi però va ad affrontare una sfida diretta come ad esempio oggi o come contro Teramo e fa questa magra figura? Ma sì è facile addebitare alla paura di giocarsi i palloni e di essere decisivi nella partita decisiva diciamo, è facile pensare questo però sappiamo che non è così perché loro ci provano, ci provano però purtroppo sbagliano scelte, oggi è andato male qualche giocatore anziano che ci ha penalizzati più del previsto secondo me. Ecco, forse si riferisce a Medizia ancora lontano dalla forma migliore? Ovviamente Medizia non è quello delle prime partite, questo anche se sta crescendo però il suo recupero è molto lento e quindi questo ci penalizza perché noi speravamo in un recupero più forte per dare un'impronta subito. Ecco, dicevamo anche con coach Schiavi, può essere adesso un vantaggio questo per la Mastria Vending Catanzaro preparare mentalmente già da ora il play-out? Sì, anche perché noi giochiamo sempre ad eliminare tanti errori e ad arrivare alla partita decisiva contro di loro diciamo pronti, preparati, senza paura perché se ancora teniamo queste paure ovviamente contro di loro non vinceremo mai. Coach, visto che siete di fatto ormai rassegnati ai play-out servirà una fame differente, insomma una voglia di vincere che almeno oggi non si è vista? Sicuramente nei play-out ci giocheremo tutto anche perché sia noi che loro praticamente non possiamo sbagliare partite, chi sbaglia retrocede.